Un tuffo nel passato, in un tempo lontano, che a quanto pare però non è poi così distante da noi. Nell'archivio della Biblioteca Comunale di Osimo, tra le pergamene originali del 1200 firmate da Gregorio XI e i documenti antichi, ci si imbatte anche in quei registri sulle cui copertine il tempo non ha cancellato il peso della storia. In questo luogo è depositata infatti una delibera risalente al 1924 e firmata all'unanimità dal Consiglio Comunale, in cui si conferiva la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto centinaia di persone fare il saluto romano in occasione della commemorazione di H. Larenzia, la vice-sindaca di Osimo, Paola Andreoni, ha suggerito la revoca della cittadinanza onoraria al Duce. Ho pensato che il Consiglio Comunale di Osimo potesse in qualche modo deliberare l'annullamento di questa cittadinanza, anche se in realtà è sicuramente un atto simbolico, perché la storia non si cancella e non è mia intenzione cancellarla. La proposta non è però stata accolta di buon grado, né dai capigruppo presenti in Consiglio, né dallo stesso sindaco Simone Pugnaloni. Io dico che quella brutta pagina di storia è stata archiviata, ci dobbiamo preoccupare di più di neofascismi che si stanno affacciando nel mondo. Per me è più importante raccontare la storia ai nostri giovani, alle future generazioni, pensando che l'Italia è stata liberata dal nazifascismo, grazie alla resistenza, e che c'è una Costituzione ben salda che dice che quel pezzo di storia non esiste più. In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra proprio il 27 gennaio, Osimo si stringe attorno a chi ha combattuto per la libertà e a coloro che hanno perso la vita nei campi di concentramento. Questo atto lo dobbiamo fare anche per Anita Bonaffi, che è stata uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz e il comune di Osimo ha voluto mettere una pietra d'inciampo proprio davanti alla casa municipale.